Eccoci, in tempo zero siamo diretta dalla Costa Rica, Monteverde, non Monteverde della Puglia, Monteverde dalla Costa Rica, ottava tappa del giro del mondo di Max, non ho neanche preparato le infografiche, niente, pronti via, avanti così, avanti così, banana alle mie spalle, 21.45, 48 in questo momento in Italia, sono le 14.48 minuti primi qui in Costa Rica, siamo a Monteverde, ma che meraviglia e che bellezza, siamo andati oggi nella foresta a fare i ponti sospesi, ci sono 9 ponti sospesi che passano in mezzo alla foresta, quelli verdi che si vedono su Google Map, Google Immagini e su YouTube, dei YouTuber che io chiaramente ho seguito prima di venire qui in Costa Rica, vi ho condiviso un video di uno YouTuber pazzesco, ha fatto un video incredibile col suo team, che ho guardato il più bello in assoluto che ho visto prima di venire qui in Costa Rica, c'è un po' di vento alle mie spalle, adesso è azzurro, ma qui il clima cambia ogni 5-10 minuti, potrebbe piovere leggermente come quando un attimino viene nebulizzato, potrebbe esserci il sole azzurro come adesso, potrebbe esserci il grigio, tutto cambia rapidamente qui a Monteverde, come un po' ai mercati in questi giorni, c'è un po' di volatilità, allora il messaggio che vi voglio dare è questo, dal punto di vista pratico, lo so che l'ansia di avere delle rassicurazioni o delle conferme vi porta a passare del tempo a guardare video su YouTube come questo, delle dirette come questa o di altri eccetera. Allora, io una cosa vi dico solamente, quando il mercato sale ci sono i video in giro di quelli che dicono che ci sono i nuovi massimi, quando il mercato scende ci sono i video in giro di chi dice che bisogna vendere, non vi fa vedere niente nessuno, quindi per me non hanno titolo. Possono fare il video su YouTube, possono monetizzare guadagnando dalle pubblicità su YouTube, ma non capisco perché, dicono che comprano, vendono NFT, non li fanno vedere, comprano, vendono terreni su Metaverse, non li fanno vedere, comprano, vendono azioni, non li fanno vedere, ma continuano a fare video e anzi si vergognano di vendere il segnale o di vendere i corsi. Ma perché se sei così bravo e perché non fai vedere che hai comprato o venduto sta cavolo di azione o sto cavolo di trading che fai? Perché ti vergogni che hai messo 1000 euro, 100 euro? Perché hai paura di far vedere che poi scende e tu ci devi mettere il faccione? Non lo so, sono supposizioni, potrebbero essere supposte per curiosi, ma alla fine me lo chiedo. Allora, serenità, per ora, poi diamo un'occhiata ai grafici, il Bitcoin ha sofferto, siamo a 47 mila dollari, i 30 mila dollari sono alla fine la rete, ve lo dico a tutti, poi nel mio gruppo stiamo organizzando delle cose e poi ho fatto un'operazione ucciona che non mi pensavo di fare in questo momento. La borsa americana è lì, è lì, un po' sotto i massimi, il VIX è lì, adesso non vi faccio vedere i grafici perché ci vuole più tempo a condividere che il resto li andiamo a vedere dopo, il dollaro è lì, è tutto lì, è lì da giorni. Allora una cosa che però rileva, poi passiamo in saluti, ve la dico subito, ho chiesto poi un report più specifico al Big Money che è il nostro uomo che fa azionario per conto di una banca d'affare che gestisce 100 milioni non due lire, per conto di questa banca non sono tutti i suoi, di darmi due report, però vi dico il risultato dei report prima che arrivano. Il primo, ci sono stati anni in cui i tassi di interesse sono saliti come quello che potrebbe essere il prossimo e la borsa è salita? Domanda. La risposta è sì. Ci sono stati anni in cui i tassi di interesse sono scesi e la borsa è scesa? La risposta è sì. Quindi al momento il problema più importante è tasso di interesse come maniera di gestire l'inflazione, variante del Covid che potrebbe impattare sui prezzi di nuovo alla fine. Tasso di interesse che i paesi possono alzare o no. Questa notte la Cina sbattendose allegramente, cioè non è la Fed che ci prepara da un anno che incrementeremo i tassi. Tac, ha alzato i tassi di interesse. Mica le balle, forse, quando. Tac, ha abbassato i tassi di interesse. È di pochissimo. Cos'è successo sul Forex, il dollaro? Niente. Cos'è successo sui mercati? Sono un po' negativi. Un po'. Il Bitcoin era negativo, adesso è passato positivo. Il dollar index è lì, fa meno 0,15. Per andare a vedere il DAX è negativo di 1,88. L'S&P è negativo di 1 e il Nasdaq è negativo di 1,13, di 1,31. Ma siamo sempre lì. Il Nasdaq è 15,006 che è praticamente la precedente resistenza, ora supporto che sta testando. Quindi io per ora non mi fa scere la testa. Lo so che uno per evitare di essere dentro nel crollo dovrebbe vendere prima, altrimenti non ce la fa più. Il problema è che il crollo, dice tale Nicola Staleb, che ha scritto un libro che è il cigno nero, quindi proprio quello che ha teorizzato da filosofo e matematico il cigno nero, ex trader. Gli eventi più rari sono quelli che proprio perché più rari possono generare movimenti più importanti e quindi anche, se sei dalla parte giusta, profitti più grandi. Ma non sono la normalità. Quindi prima di diagnosticare un cigno nero, che clinicamente non si può diagnosticare prima, non c'è prevenzione per il cigno nero, mi spiace, non c'è prevenzione per il cigno nero e vivere con la paura che può succedere qualcosa ti fa star male, ti fa pallido. Per quello che i miei colleghi fanno i video sono pallidi. Cioè il punto è non possiamo vivere con la paura di sto cigno nero, non possiamo vivere con la paura di far trening, non possiamo vivere con la paura di entrare perché sennò è come non uscire di casa, perché mi sento brutto, mi sento cicciona, mi sento che mi guardano male, mi sento che mi giudicano, è una brutta situazione. Vogliamo levarci questo. Quindi però non è successo niente di particolare. L'unica cosa è che il mercato delle cripto è sceso in modo significativo. Però questo. Quindi prima roba, serenità. I dati da puntista macro bene o male sono quelli là, i tassi di interesse sono stati recepiti bene da parte del mercato queste informazioni. Il dollaro ormai ha preso quota, l'euro dollaro è arrivato 1,12 di minimo, quindi non c'è novità per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse. Cioè l'euro dollaro è stato lì, come dire, questo era il punto che prevedevamo, è il punto dove siamo arrivati. La borsa americana nel giorno in cui l'hanno annunciato ha fatto più e adesso balla, se vogliamo prendere l'S&P, tra 4.500 tondi, più o meno precedente supporto o ex resistenza del 6 settembre, più o meno 4.700. Quindi io stare lì sereno. Il VIX che è l'indice della paura, oggi sale ma poi è sceso, quindi è positivo del 7,69, ma siamo comunque a 23, quindi c'è nervosismo. I valori dei premi delle opzioni, in particolare le put, aumentano perché la volatilità implicita sale come prospettiva di copertura, però quando succede sta roba, siccome ho visto dei video in giro di gente che parla delle opzioni come se le facesse, ma non le ha mai fatte, allora i premi delle volatilità implicite delle opzioni salgono perché? Perché chi vuole proteggersi comprando ad esempio delle put, interviene. L'aspettativa, la volatilità aumenta così sui mesi a venire delle opzioni, perché chiaramente con i mercati massimi, con incertezza, la gente si copre comprando le put. Cosa vuol dire che si copre? La più grande copertura di tutti i tempi, recente, più recente, la fece Ray Dalio. Prima del crollo dei mercati del covid si comprò una svalangata di put. Fra l'altro, perché se le comprò mercati massimi, cominciava a pensare che uno storno era legittimo. Ray Dalio famosissimo, gestore ai fondi più grandi, che cosa ha fatto? Gli hanno detto, ah, è crollata la borsa, te lo sapevi, ti sei comprato le put, peccato che lui le ha comprate un po' troppo presto, le ha pagate un po' troppo care e quando è crollato tutto lui ci ha smenato sulle azioni che aveva e anche sulle put, che notoriamente sono delle opzioni che guadagnano se il mercato scende. Lui se avesse guadagnato quella scommessa, scommessa perché scade, non perché siano scommessa, comunque ci avrebbe smenato sul totale, perché questo tipo di fondi usa queste put per coprirsi, cioè se io ho 100 miliardi e viene giù la borsa del 20%, piuttosto che perdere 20 miliardi, la put me ne guadagna 3, ne ho persi di meno, tu dici vabbè allora tutto qua, no, 3 miliardi in meno che tu hai perso, 3 miliardi che guadagni chiudendo la put e ti compri titoli a prezzo più basso, cioè questa è la logica dei fondi, non è che fanno trading mettendo in tre operazioni con lo stop loss tutto long o tutto short, non è questo che fanno i fondi che gestiscono certe cifre, quindi nella nostra maniera di muoverci noi prendiamo spunto dalla filosofia dei fondi e di Ray Dalio e di Warren Buffett e di quelli che hanno fatto la storia della finanza, perché? Perché loro ci hanno dimostrato che quello che fanno funziona per 60 anni per Warren Buffett, per Ray Dalio non lo so da quanti anni ha il suo fondo pazzesco, quindi roba che funziona, quindi quel modo di muoversi è un modo importante, quindi la leva, al position di non stop, quelle solite robe lì che oggi non ripetiamo, per cui per me questa è la notizia non solamente di oggi, ma di questo periodo, se il mercato dovesse avere un grosso shock non lo vedreste fare meno uno, meno un e mezzo, lo vedreste aprire in gap negativo con il VIX a 50, quel giorno lì preoccupatevi, tutti gli altri giorni tenetevi le energie, la preoccupazione, quel cavolo che l'è, per operare sui mercati con serenità. Se volete proteggervi da quel giorno che arriva una volta ogni tot, non sappiamo quando arriva, perché arriva e come si manifesta, saremo sempre lì aspettare, come quelli che vi dicono ho venduto tutto perché viene giù, boh, ho comprato perché va su, boh, però alla fine non vedi niente, no? Allora il tema è, io devo fare le mie cavolo di operazioni, un motivo per farle ce lo devo avere, però non deve essere la paura di rimanere dentro di un crollo altrimenti non ne esco. Allora piuttosto, fa una cosa semplice, hai 100 da investire, investi 30, hai paura di un crollo, hai paura che la borsa perde il 50, te perdi più del 50, perdi più del 50 del 30%, that's it, eh ma così se la borsa sale guadagno meno, eh ma se, se, se non vai a casa più. Allora il punto è, se non vuoi rischiare che c'è un crollo e tu sei dentro, perché qual è il problema del crollo? Hai investito una cifra troppo grande per te, perché se tu hai 100, investi 30, il crollo impatta anche del 70%, sul tuo 30, te ancora 70, non ti senti povero, il problema del crollo è che ti fa sentire impoverito, perché hai messo una cifra che per te è molto importante, è troppo e allora lì hanno ragione le banche quando ti dicevano non investire una cifra che non puoi perdere, a noi non ce ne frega niente di perdere, per carità vogliamo guadagnare, però in un frangente potremmo andare sotto e se in quel frangente andiamo sotto di troppo rispetto ai soldi che abbiamo, allora lì avevano ragione le banche che ti dicevano non investire una cifra superiore a quella che puoi perdere, per tutto il resto tutti vi siete stancati di andare dalle banche e dai consulenti finanziari che vi dicono cosa fare, quando farlo come farlo ma non lo fanno. Adesso vi siete rotti le balle dei consulenti finanziari delle banche, seguiti youtuber che vi dicono come fare, quando farlo come farlo ma non lo fanno o vi dicono peggio che lo fanno e non vi fanno vedere, stop della considerazione, quindi state sereni che viene Natale soprattutto in Italia perché anche qua viene Natale, il problema qual è? Che siccome c'è caldo, siccome c'è sole, siccome le luci le mettono sulle palme non sembra che sia Natale, cioè qui viene Natale, anche qui dicono, c'è in giro le macchine con le corne delle renne, però alla fine non sembra Natale, per cui qui è Natale però Natale è un altro modo. Un po' di saluti a tutte le persone che mi seguono, a tutte le persone che sono codiciane, sono criptoniane eccetera eccetera. Allora sapete che dalla Costa Rica cambieremo i giorni in cui andremo in diretta, cambieremo gli orari compatibilmente anche con le nostre attività. Stiamo girando la Costa Rica in lungo e in largo. Abbiamo incontrato una famiglia oggi di no con nove bambini, incredibile, questa cosa ve la voglio raccontare ma non so se ve la racconto oggi questa moneta. Allora dobbiamo stare tranquilli come dicevo prima, è meglio stare tranquilli. All'apertura stamani c'era una bella legnata. Allora quando l'S&P fa meno 1,30 non è una legnata. Voi avete mai visto una legnata dell'S&P? Io mi ricordo, tra tutte ne ho viste tante, una in cui ha aperto in gap down del 10-13% sotto. Solo in gap. Veniva già giù da tempo. Quella è una legnata. Se fa meno 1,30 ed è una legnata vuol dire che uno mette troppi soldi addirittura con la leva. Quindi non sta mettendo solamente il 100 di quello che ha. Addizionando con la leva sta mettendo 10-20 volte quello che ha. Questa è la classica roba che poi fa i casini. Carissimo Davide, ciao come stai? Lui veniva a scuola con me alle metari. Grandissimo cavallerizzo. Ha vinto tanti di quei premi che non vi potete immaginare. Allora, bellissimo passante viaggiatrice, come seguirti nel tuo giro del mondo? Bello essere trader, libero di seguire le proprie passioni. Una cosa stupenda che, ma sì ve la racconto stamattina eravamo a... Eh vedete, poi ci sono quelle persone che dicono, se crolla io ho ancora soldi vorrà dire che farò gli affari. Corretto. Codiciano Andrea. Allora stamattina ve la racconto adesso che è fresca. Facevamo colazione. Sapete quando loro guardano te, te guardi loro e ti chiedi loro cosa fanno e te che cosa fai se lo chiedono loro? Allora rompendo gli ingiugi, no? Si fa una domanda ed esce il lambaradan. Allora c'era una coppia, lui sei, non so, potevano avere più di 50, meno di 60, con quattro bambini. Lui arriva con i quattro bambini, biondi, magri, perfetti, è una roba da Big Jim e la famiglia Mattè e fanno le cose. Però era apparecchiato per sei, quindi arriva poi la mamma, iniziamo a parlare e ci raccontano che ha nove figli hanno primo e unico matrimonio, vivono insieme, sono americani, vengono dall'Iuta e che cosa hanno fatto? Si sono trasferiti in Costa Rica. Da sei mesi, probabilmente vittima della struttura di palle, del lockdown, il covid e il bim bum bam, si sono trasferiti qui in Costa Rica. L'avevano vista la prima volta dieci anni fa, si sono innamorati e si sono definitivamente trasferiti con tutta la famiglia. Questo per dirvi che cosa? Che le decisioni sono delle cose molto importanti, le paure non ci aiutano a decidere, sono un elemento che entrano sicuramente nella fase della decisione, ma loro hanno preso nove bambini, hanno preso i armi e bagagli e si sono trasferiti in Costa Rica, fra l'altro Tamarindo dove noi siamo andati in una delle nostre età e quindi ci chiedevano cosa stiamo visitando e noi praticamente gli abbiamo detto e ne abbiamo visitato più noi che loro che volevano venirci a vivere. Questo per dirvi che gli americani per esempio avranno delle cose negative come noi ce le abbiamo, ma nella capacità di decidere sono bam. Nella capacità di decidere sono molto bom. Se avete visto il video che ho condiviso di recente, anche in questo caso nel gruppo Telegram Vivere di Trading, vi parlavo di come essere nella decisione, è una cosa che ho voluto fare perché secondo me è molto importante e la capacità di decidere senza rimuginare, senza stare, non è l'impulsività quello che mi viene in mente lo faccio, però la capacità di decidere, di agire è una delle maniere che vi leva dall'imbarazzo della paura, altrimenti non ci siamo assolutamente. Allora, una delle cose che sto facendo per esempio in questo periodo sto facendo tutto tranne che seguire continuamente i mercati. Qual è una cosa importante? Una cosa importante è che se tu continui a guardare le posizioni, a guardare una roba che non va esattamente come vuoi te, continui a ricalcare il messaggio nella tua mente che sostanzialmente potrebbe succedere che non ti va, che non ti piace, impatti sul tuo stato emotivo. Quindi, quando ci sono questi momenti qua, se non hai cose particolari da fare, perché per esempio non ti vuoi avventurare in uno short, o hai delle posizioni a mercato mano, ma te ne stai sereno e ti fai un po' di altre attività, ti occupi di te stesso, recuperi, ricarichi energie, perché ti serviranno, energie ci servono sempre. Quindi non facciamocele fregare dalla pressione della paura o addirittura da quello che ci vogliono trasmettere gli altri, che ci dicono delle cose che amplificano la nostra paura. Ma pensa un po', vai dal medico, ti guarda, sei già un po' bianco in faccia, ti senti un po' di febbre, ti guarda così, oh, vai cazzo. Allora non vado dal medico, il medico ti deve motivare prima di tutto, altrimenti non usciamo più. Allora faremo grandi cose nel 2022 continuando a lavorare sul mindset. Perché? Perché così almeno siamo in grado di lavorare nell'attività di trading godendo, non solo senza paura, godendoci pure, godendoci da questa attività, altrimenti ci sfianchiamo dallo stress, dal calo di energia, eccetera. Cosa che a noi non ce ne frega niente. Per cui prima roba non continuare a leggere i giornali, adesso i giornali so che non li leggete più, il televideo nessuno guarda più, evitate di guardare tutti sti cacchio di video che ci sono su YouTube, tutti quelli che dicono che fanno, non fanno niente e vi creano ansia. Non ci interessa l'ansia di nessuno, non ci interessa quella di noi stessi, vorremmo assolutamente sgretolarla. L'ultima cosa che ci interessa è l'ansia degli altri. Figuriamoci, soprattutto se hanno tante persone che li seguono, perché sembra che quello che dicono allora è vero. Allora, calcoliamo sempre il rischio prima, certamente, nel senso che quando siamo presi dalla voglia di guadagnare, dalla paura di essere fuori, i mercati salgono, che adesso sai la chiamano foma, foma, fima, fuma. La paura di star fuori, no? La paura di star fuori alle volte è più cattiva della paura di essere dentro, perché se sei dentro e perdi almeno ci sei. Se il mercato sale e non ci sei, dici cazzo che stupido, non ho comprato, non ho venduto. Per cui piuttosto uno poi, cosa fa? Piuttosto perde, ma va dentro. Perché? Perché lui è fuori mentre gli altri guadagno. Preferisco che se il mio collega mi dice che sta guadagnando con il metaverso, guadagno anch'io, che non che lui mi dice che io guadagno, lui guadagna, io no, e al limite se lui perde, perdo anch'io, tanto non ci diremo più niente se perdiamo. Piuttosto che sapere che lui guadagna, io no. Ah no? Quanto hai messo? Diecimila, io venti, stronzo. È così, no? Ma chi se ne frega, disse il madre alla strega. Capito? È importante questa roba qua. Questa è molto importante, non seguite il Sose del Max che c'è in giro, che vi regala gli Ethereum e i Bitcoin, perché non è vero, però è importante. Esatto, ha fatto nove figli, la signorina ha fatto nove figli. Fra l'altro una famiglia, faccio vedere la foto con tutti i nove più loro due undici, in montagna, nello Utah, una foto bellissima. Hanno deciso anche l'outfit che colore doveva avere. Quindi due gemelli, due bambini, poi tutta la famiglia disposta nella montagna con i colori vestiti in un certo modo, sembrava uno tipo dynasty, no? Una roba fantastica. È una roba fantastica. Allora, esatto, spregiudicati e umili. Quel video tenetevelo perché è una cosa importante. Io poi vi condivido delle robe che non sono per me quello che so che è, ma io continuo a fare percorsi, che non vuol dire che studio, vado, vedo, io faccio per me stesso e analizzando voi che vi rivolgete a me. Per cui quello che io vi dico molto spesso è assolutamente non solo allineato con l'operatività e il mercato del momento e la situazione in cui ci troviamo a operare, ma anche con il percorso che io faccio su di me. Questo video che a me è piaciuto tantissimo, spregiudicatamente umili, che ho pubblicato su Crypto Commando e Codice Max, in questo caso ne ho fatto dono anche a chi è nel canale Telegram Vivere di Trading, è proprio una cosa recente che io mi sto dicendo e su cui ho riflettuto, perché vedo non chiaramente, cioè vedo gente che ha fatto grandi cose, non so, le Elon Musk di turno, lo Steve Jobs, questo e quell'alter e mi chiedo nella loro testa di che paure hanno avuto, che tipo di vita hanno vissuto, mentre con la loro famiglia, con i loro amori, con i loro figli, con i loro pauri, con le loro incertezze, con la loro voglia di vivere la vita, perché alla fine impegnati così tanto nel business, c'è anche da capire, arrivato a quel livello là, quanto vuoi dedicare al business dei soldi, alla tua carriera e a te stesso. Quindi mi chiedo, e siccome non ho la fortuna di poter parlare con Bill Gates, piacerebbe anche, allora io mi faccio delle riflessioni su di me, cerco di capire alcune cose e poi le testo, è come quando qui siamo andati a vedere la fabbrica del cacao, cioè la fabbrica, la fattoria. Mirella mi diceva, anch'io me lo chiedevo, ma come cavolo fanno a capire che prendi, apri il cacao, il frutto, prendi il nocciolo, che sopra un po' di quella roba lì, che te la puoi cicciare, lo metti lì chiusi in una scatola. Questo fermenta, quindi odore d'alcol, roba che lo butteresti via, e solamente dopo lo secchi, lo lavori e lo usi per fare il cioccolato. Come ci arrivi a quel processo? E lì è lo stesso, come capisci qual è la strada giusta che a un certo punto ti porta a target? Cavoli, alla fine è per tentativi. Tra i tentativi c'è anche lo studio, perché alla fine studia, 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 che poi sei capace. Ma chi te l'ha detto? C'è gente che studia a cent'anni, c'era un post ieri e l'altro giorno, un video, una storia, qualcosa in giro di Elon Musk, e diceva, guarda, Bill Gates non era laureato, questo non era laureato, questo non era laureato, fai te, tutti quelli che studiano, ti dicono, i miei colleghi, nel senso che fanno i video ma non fanno trading, non fanno vedere niente, che studia, 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 perché poi riesci. Ma chi l'ha detto? Puoi studiare quanto vuoi, ci sono gli ingegneri che hanno studiato, sono diventati anche professori e poi non fanno un ponte. Quindi sì, io ho capito che le informazioni, se possibile di qualità, sono utili, certo, perché ti danno un punto di vista, ti danno delle informazioni su cui tu poi puoi fare autofillback e analisi di te stesso. Quindi devi capire di quelle cento informazioni quale vanno bene per te in quel momento. E se di quelle cento informazioni il 70% non sono veritiere, sono sbagliate, sono fallaci, non sono mai state provate, quindi vengono da gente che fa teoria, tu cosa te ne fai di quelle informazioni? Quindi io non dico che non bisogna leggere o studiare. Per carità, il problema è che la pratica è fatta di tentativi. Questi signori che hanno fatto queste aziende e che hanno cambiato il mondo, non è che hanno potuto studiare come fare la Apple, come fare la Microsoft, come mandare un missile nello spazio che atterra in piedi, perché hanno capito che gli USAID getta della Nato sono come le Gillette ma costano troppo. Per cui non è che hanno studiato questo. Quindi hanno avuto quella capacità di immaginare qualcosa che non ha fatto nessuno e di autoanalizzarsi mentre la facevano. Quindi non è che hanno potuto chiedere a qualcuno, non è che non avranno mai avuto dubbi in se stessi, anche se uno ha fatto Paypal, l'ha venduta, ha preso i miliardi e gli era investiti e ha fatto una figata che Tesla. Volete che non avrà le sue paure nel mandare il suo missile nuovo nello spazio e cercare di farlo riatterrare e magari non ce la fa? Certo che sì, ma secondo me la cosa che dobbiamo sviluppare è la capacità di conoscerti e avere auto riflessione, altrimenti avremo sempre da cercare qualcuno che ci dà il migliore consiglio per noi. No, io voglio ascoltare le persone, io ascolto anche le persone che non fanno mica di un lavoro, io ascolto la persona che per esempio ci ha ricevuto nell'Airbnb, nella nuova casa che siamo arrivati, adesso esce un video, vi faccio vedere, abbiamo una casetta, tranquillissima, in mezzo al niente, non prende il niente, c'ha le finestre grandi, di notte si sentono i rumori della foresta e poi non lo so cosa è successo perché fanno i tetti d'alluminio, quindi stanotte si sentiva, non si capisce bene se erano foglie che cadevano, gocciolava, se c'era un tapiro che camminava sul tetto non lo so, però succedeva questo. E alla fine io sono lì e che cosa faccio? Certo, ascolto anche la persona che ci dà le chiavi e che mi spiega come vive in Costa Rica, tante sono le cose che ti arrivano, poi da lì tiri fuori delle cose importanti, però non è il come si fa che va bene per tutti, copio in colla e basta, è una ricerca che io faccio perché io potrei essere dipendente e voglio avere un'entrata in più, quell'altro vuole lanciare il lavoro, quell'altro l'ho lasciato a casa, quell'altro fa già libero professionista, quell'altro abbiamo Diego che ha fatto più del 1000%, mi ha mandato le foto della sua azienda, lo saluto, vedrà la diretta di sicuro, un'azienda che non finisce più devo far così a vedere la foto, fa trading, potrebbe non farlo, eppure cerca la sua sfida nel trading. Mi ha mandato anche le foto della sua riserva dei vini con le scatole delle bottiglie e scrivendomi quante bottiglie ci sono, quanto valgono, quanto vale la cassetta. Pensate che si è fatto una cantina di vini che vale più dei soldi che ci ha messo, perché lui compra tre bottiglie, una se la beve, due le vende e una se le ricopra quattro. Un cinema, quindi molte volte gli imprenditori fanno soldi nel mondo dei vini, sarete spesso andati in giro a fare non so il giro o la vacanza e vedete la cantina o siete andati in un Airbnb e dite questa vigna è di un imprenditore, italiano, russo, che si è innamorato, l'ha comprata, ci fa il vino e non lo vende, lo fa per lui, oppure ne vende poche bottiglie e ci fa i soldi anche lì, perché? Perché ha la capacità di impresa, tocca il vino che lo fa per passione e ci guadagna pure, quando magari l'ha comprato da un fattore prima di lui che era andato in rovina e non riusciva a farci un euro. Questo per farvi capire che è importantissimo capire chi sei tu, tutti vogliono capire come guadagnare i soldi, come copiare quello là, come fare quello là, aspetta un attimo, tu chi sei? Come ti chiami? Che scuola hai fatto? Che cosa vuoi fare? Che aspettative hai? Hai paura? Non hai paura? Sei dello scorpione? Sei di pesci? Hai fatto la scuola? Non hai fatto la scuola? Hai un'ora di tempo al giorno? Hai un'ora di tempo alla settimana? Sei uno che vuole fare tutto subito, poi si rompe le palle? Hai una costanza che è una roccia? Sei uno che capisce tutto, glielo dici una volta, cioè tu chi sei? A questo punto tu dove sei? E fammi un minimo di disegno, di dove vuoi andare, non dico degli obietti, un minimo disegno vuoi andare e cerca di ascoltarti mentre fai le cose, mentre dici le parole agli altri quando descrivi quello che fai, cerca di ascoltarti quello che dici, le parole che dici, le voci con cui ti parli prima di andare a dormire, se non dormi fissando il soffitto, scrivitele, perché quello sei tu. Quando hai tirato fuori l'avatar, cioè la descrizione il più possibile dettagliata di chi sei tu, allora lo lasci lì, lo comincia a guardare, comincia a guardare, guarda, guarda quello lì, guarda quello lì, guarda quello lì sei tu e quando ti comincia a dare dei consigli giusti, come se quello lì fosse il tuo miglior amico e non tu, allora comincia ad estrarre dal tuo avatar quali sono gli elementi importanti. Questi elementi importanti spesso sono chi tu sei e quali sono le tue necessità, quando vi vendono qualcosa, ve lo vendono perché loro conoscono il vostro avatar. Facebook, Google, YouTube conoscono meglio di voi il vostro avatar. Chi vi vende qualcosa conosce meglio di voi il vostro avatar ed è così bravo che riesce a capire quali sono i vostri bisogni rispetto a chi siete e colpisce i bisogni per vendervi qualcosa. Voi che siete la casa di voi stessi non potete non conoscere il vostro avatar, altrimenti siete in balia dei social, in balia di chi vende qualcosa, in balia del bim bum bam. No, io posso capire, anch'io compro sulle emozioni delle cose, sui miei bisogni, ma il punto è, conosco Max perché se conosco Max so dove è più forte, dove è più debole, so dove posso avere più fiducia sulle mie capacità e di meno e questo mi aiuta un sacco. Poi studio, mi informo, chiedo informazioni e tutto quel cavolo che volete. Grazie dei commenti sono tantissimi. Questo è importante perché questa è una cosa che vi sarà molto utile. Io l'ho scoperta su una mia pellaccia e l'ho consapevolizzata sopra i 40. Non so se è una questione di età o se è perché sopra i 40 io ho cambiato marcia di nuovo e mi sono capitate tante belle cose che prima ho preparato, ho cercato, mi sono impegnato, ho fatto e i risultati sono per carità arrivati, ma a un certo punto te ne arrivano molti di più di quelli che pensavi perché i risultati arrivano in modo diverso. Tu ti devi sbattere, questo è chiaro, devi fare, questo è chiaro, devi avere la lucidità di prenderti del tempo perché se no fai e basta e queste tre cose devono essere chiare, poi i risultati arrivano in modo non lineare, non simmetrico rispetto a quello che fai, non nei tempi che dici tu, ma nei tempi in cui le cose poi hanno bisogno di accadere e alle volte vi potete stupire di quello che può accadere, di quello che potete ottenere, però non dovete fermarvi prima, non dovete lamentarvi troppo perché poi l'italiano si la munta spesso, grande e creativo, dove vai vai dove sei, italiano, bella l'Italia, creativo, tortellini, Ferrari, moda, siete dei fenomeni, benissimo, speriamo che vada avanti così, così ogni volta che vado a qualche parte sei italiano, italiano, abbiamo un'ottima reputazione, però una delle cose che ci manca è che ci svogliamo un po', che ci lamentiamo, ah quello là guarda che roba, quello lì, lavori per uno ti lamenti di quello lì che è il tuo capo perché non va mai bene, lo resti tu il capo, però alla fine non lo fai, quindi siamo molto attenti a puntare il dito, invece puntiamo il dito verso di noi, diciamo guarda Max, va bene, c'è la barba, il 746, sì bene, hai fatto tradi con un paio di mignoncini, bravo, 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 però potevi arrivarci prima, ok, e perché non sei arrivato prima? Fate l'analisi, capite quali sono le cose, una volta capite, ma lo sapete che risolvendo quelle 3-4 cose andate velocissimi e se voi copiate il modello di un altro, nel modello di un altro magari ci sono anche le vostre 3 cose, ma magari ce ne sono altre 70 e magari solamente 3 sono le più importanti da risolvere per noi in quel momento, per quello vi faccio un sacco di esempi, vi parlo di un sacco di cose, perché chi mi segue, adesso siamo in 190, avrà 190 personalità diverse in momenti diversi della sua vita, quindi non può copiare Max oggi, è per quello che io vi parlo di tanti spunti, perché qualcuno accende l'interruttore ad A, qualcuno a B, qualcuno a C, qualcuno a D, poi la diretta la guardano in 3000 e quindi ognuno deve avere la sua ispirazione, a quel punto l'ispirazione cos'è? È, ah ho capito che sono così, ho capito che ho sbagliato questo, devo risolvere questo, quella barriera che butti giù, quella porta che apri, quel muro che butti giù con la gomitata o vai dentro in macchina, è quella che ti fa fare un passo e non un sale, ah ho fatto le zip line, qui in Costa Rica le zip line sono stupende, sono andato a farle un po' di tempo fa, ho fatto le zip line, ho fatto un passo così lungo che mi sembra di essere andato con la carrucola dall'altra parte della montagna, perché? Perché hai buttato giù quel problema che era importante per te in quel momento, capito? Quindi capire chi siamo, ascoltarci, queste sono le cose importantissime, altrimenti è un pasticci. Per esempio, nessun problema, anch'io ho investito al 100 per ora il mio portafoglio, posso aggiungere dei soldi, ma nessun problema, c'è il fly to quality, ne parliamo nel corso di investing dentro, valla a vedere, nessun problema, non è un problema, l'ultima operazione che ho fatto, per esempio, avrebbe il senso di cercare di fare meglio del mercato, il fly to quality, quindi questa roba qua non ti deve preoccupare, questo è il rimorso di aver fatto qualcosa che si poteva non fare e pensa se il mercato da 63 mila andava a 100 e tu anziché investito il 50 e investivi il 100, non eri contento di te stesso? Occio, Occio Luca, perché queste cose qua ce le diciamo tutti, quando andiamo male ci accusiamo perché siamo andati male, ma quella stessa azione se la fatevi in un altro momento ti faceva sentire figo perché andavi bene, quindi attenzione se è un errore, perché se l'errore è o non è previsto che il mercato scendeva ho investito il 100 anziché il 50, il timing, la previsione che il mercato scende, siamo buoni tutti a farla dopo, quindi non è un'accusa, non è un errore, è un errore se tu come me compri tiscali che è un'azione di merda, posso dirlo? Ciao Soru! E investi solo lì nel momento delle dot com e non ti trovi più niente, alla fine dici e abbiamo comprato mentre scendeva, ma non è neanche quello il problema, ho investito tutto, non è neanche quello il problema, lo fa anche Warren Buffett, il problema è che hai comprato una stronzata, quindi se tu hai diversificato nel modo con cui abbiamo diversificato, tu magari non hai avuto un buon timing, tu magari hai investito 100 anziché 50, tu hai avuto un atteggiamento più aggressivo, bene, però allora se hai avuto un atteggiamento più aggressivo, utilizza quell'atteggiamento aggressivo anche adesso, quindi non stare a rimuginarti, ah porca miseria, però io potevo fare, non l'ho fatto, ho fatto così, ho sbagliato, non hai sbagliato niente, hai deciso di utilizzare un atteggiamento aggressivo, quando guardi quel video, no? Ta 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 ta, umili quello lì, allora dici, ok io ho fatto quella scelta in quel modo, adesso è inutile che io mi metto lì, ah però potevo o non potevo, adesso sto così, ho fatto quell'azione per quel motivo, ho diversificato, non ho comprato tiscali, non ho comprato la tiscali delle altcoin, delle cripto e quindi ho in mano della roba buona, perché noi abbiamo sempre roba buona in mano, ma è robaccia, a quel punto da lì ti riconfiguri, quindi che cosa hai fatto tu Luca là, che cosa pensi tu Luca là, scrivilo, disinnesca questi pensieri negativi che ti creano un problema, perché questo pensiero negativo che ti crea un problema, probabilmente tu te lo ripeti, fai conto con le X, da 10 o 30 volte al giorno e non solo, te lo ripeti da 10 o 30 volte al giorno nei momenti in cui sei più vulnerabile, prima di andare a letto a dormire, se non prendi bene sonno, nel momento in cui ti sei ancora appena svegliato, nel momento in cui hai pensieri non buoni, nel momento in cui non ti senti a 100, io adesso sono a 100 perché sto facendo una diretta, se passa dietro un dinosauro e mi morde, muore, se finisco la diretta, mi cala lo stato di picco, sono più tranquillo, se mi mangi al dinosauro magari muoio io, quindi questi pensieri hanno la capacità di venirti a prendere in vari momenti del giorno, quando ti senti forte li respingi, quando ti senti debole ti mangiano, per cui capisci che quello non è un errore, quello è una roba di timing, chissene fuet, verticalizza il pensiero, razionalizzalo e caccialo dentro, perché altrimenti ti mangia vivo, ah però potevo, ah però potevo, e nel frattempo che cosa stai imparando del tempo che passa mentre ti dici ah potevo, per cui tranquillo non è quello il problema, anzi, i problemi sono i grandi errori, tu non hai fatto un grande errore, quando si parlava delle sciocchezze, del mitico libro che oramai me lo porto sempre dietro, della psicologia dei soldi, io devo fare una scelta, ho 23 kg di bagaglio più uno zainetto, in realtà le cose sono un po' cambiate, perché siamo via da 4 mesi, quindi abbiamo un po' di extra, però apriamo a caso il libro e vediamo che cosa, lo sto rileggendo, su una pagina 44, vediamo un po' che cosa ci dice di bello da leggere questo libro qua, la risposta mi sembra semplice, allora quella flessibilità e quel controllo del proprio tempo è un rendimento invisibile della ricchezza, che libro, che libro, quando ero a casa in Svizzera lo lanciavo, tanto andava a finire sul divano, adesso no, perché mi va nel dirupo, poi per comprare un libro in italiano, farò un ordine da Amazon, per me è la cosa più difficile, che si possa fare, quindi mi raccomando ragazzi, abbiate rispetto di voi stessi, non trattatevi male, non ditevi le cose brutte perché non ve le meritate, ok? Questi qua che regalano i bonus e regalano i BTC eccetera, chiaramente non è vero, sono persone che amano seguire le nostre dirette in modo speculativo e fanno questa roba qua per fruttare la gente, non è vero. Ah, qui siamo circondati da uccelli, abbiamo visto i pappagalli con i rossi grandi, abbiamo visto il bradipo con il bambino, abbiamo visto l'uccello azzurro, voi avete visto il cartone animato l'uccello azzurro? Chi lo vedeva il cartone animato l'uccello azzurro? Devo pubblicarlo nelle stories, era un cartone animato che vedeva Mirella da piccolina, o abbiamo visto l'uccello azzurro, non l'ho mai fuori da casa, quella prima dove io trasmettevo con le banane, adesso siamo qui davanti a un baretto perché voglio trasmettere da casa però non volevo rompere le palle a Mirella che si voleva riposare, che abbiamo fatto otto punti in mezzo alla giungla oggi, però lo farò perché voglio farvi vedere questa finestra bellissima sulla giungla e poi il telefono prende solamente in quei dieci centimetri quadri da cui eventualmente tenterò di farla direttamente. Da quella casa lì c'erano gli uccellini azzurri, grandi così, con la cresta, che venivano tutte le mattine, Mirella dava mangiare, oh dovete vedere che roba, per ringraziarla che gli dava da mangiare gli hanno portati fiori, un fiore per ognuno di quegli uccelli azzurri a cui Mirella tutte le mattine dava mangiare, una cosa incredibile, ti fanno aprire il cuore. Poi, poi abbiamo visto delle scimmie, ci sono un paio di tipi abbiamo visto, abbiamo ragazzi, il pissoso, il pissoso, come si chiama? Il pissote, il pissote, andate a cercare pissote su Google, no è troppo bello, adesso devo pubblicare la stories dove si vede il pissote, si scrive pissote mi pare, si scrive pissote, si chiama Nasua Narica, in Messico ne abbiamo visti tanti, abbiamo un pissote fuori da casa, due, gli diamo da mangiare, quando andiamo a fare colazione, che è in un altro caseggiato rispetto a dove stiamo noi, che c'è una signora gentilissima che ci può fare la colazione, dà da mangiare al pissote che arriva insieme agli uccelli che cercano di giubargli il cibo e il pissote li manda via, bellissimo il pissote abbiamo visto. Adesso che ci manca sicuramente il tucano, che è una roba complicata da trovare, da vedere, però vediamo, ancora abbiamo da fare tanto, abbiamo da fare, siamo sulla costa pacifica, che è la costa ricca, penso sia la cosa, più particolare della costa ricca da vedere, ci siamo spostati da Guanacaste, che è una zona, io ci ho lasciato il cuore, io vi dico, ho visto tanti posti da costa ricca, cioè se Mirella mi dicesse stiamo qua, io finirei il giro del mondo qua, e ci siamo spostati da Guanacaste a Monteverde, Monteverde faremo poi la fortuna, perché qua ci sono i parchi più famosi da girare, belli, ma molto spesso le cose che tu vivi come stupende non sono quelle dove sai che gli 8 o 9 punti di oggi erano belli, sono spesi in mezzo alla foresta, stupendo, ma lo sai che belli, i posti più belli sono quelli che non te l'aspetti, Santa Teresa, che sembra copiato da Santa Teresa di Gallura in Sardegna, non è una roba dove tutti vanno, gli youtuber manco ci fanno i video, non siamo capitati a Santa Teresa, e io ho lasciato il cuore, e nessuno mi ha detto che Santa Teresa era bella, e non è che c'era l'esperienza da fare, è che noi abbiamo preso i quad, perché per scendere da casa c'erano 3 km di una strada, che non so come ho fatto a salire in macchina, quindi era obbligatorio avere i quad, con i quad siamo andati a vedere i pappagalli, siccome non volevamo scendere in macchina, perché era da folli, mi era detto andiamo col quad, anziché seguire la strada di Google Maps sulla strada, abbiamo fatto tutto sulla spiaggia e nella giungla, cioè noi eravamo col quad sulla spiaggia, abbiamo guardato i fiumi, abbiamo fatto la giungla con i quad e siamo arrivati a vedere i pappagalli, io quella cosa là non me la dimenticherò mai più, cioè per me è stata una delle esperienze tra le top 3 al mondo, cioè col quad sulla spiaggia, va a guardare i fiumi, giungla, pappagalli, pappagalli torna indietro al chiarore di luna, riguadare i fiumi dell'andata, al buio, con luci del cuo dentro nell'acqua, cioè e poi tornare con la luce della luna a vedere sulla spiaggia al buio la strada, no io quella roba là non me la dimentico, per me questo, questo, per me questa è la Costa Rica, io questa roba qua insuperabile, quindi questo è il motivo per cui io, questo è il mio perché, questo io ho capito un po' com'è il mio avatar, ho capito un po' come reagisco le cose e ho capito che non è voglio guadagnare i soldi, sì ok, ma perché, è questo il mio perché, questo è che mi dà la forza la mattina di svegliarmi, sapere che c'è una nuova avventura oppure no, di fare il lavoro, di farlo due ore al giorno o 16, di lavorare sabato e la domenica oppure no, di visitare la Costa Rica o decidere di fare la diretta o quel cavolo che l'è, questo è il mio perché, quindi una volta che conoscete voi stessi, che avete capito quali sono le tre cose più importanti da abbattere per fare la zip line del vostro target e avete capito qual è il vostro cavolo di perché, allora avete in mano il telecomando di voi stessi. Io vi ringrazio per essere stati con me, è stato veramente piacevole da parte mia condividere tutto questo, vi do appuntamento alla prossima che non si sa quando sarà, ma sarà sicuramente ancora.